in questa quinta domenica di guaresima noi ascoltiamo la bellissima profezia del capitolo trentunesimo del profeta geremia la nuova alleanza l'alleanza che finalmente metterà nel cuore dell'uomo la sapienza di dio porrò la mia legge dentro di loro la scriverò sul loro cuore dobbiamo capire come funziona questa cosa qua della legge scritta nel cuore è interessante noi diciamo portare nel cuore qualcosa no ecco la legge può restare qualcosa di esterno normalmente questo è la legge è un codice le norme sono qualcosa che si osserva perché esternamente fisicamente concretamente uno fa le cose come le deve fare altro è qualcuno che fa una cosa perché c'è una norma che glielo impone altro è una persona che dal cuore ha quella norma cioè non è una norma è il suo cuore ciò che ha a cuore è fare quella cosa lì altro è fare quello che è necessario perché altrimenti si è trasgredito un codice altro è amare le cose che ci sono da fare farle per amore farle perché uno ha capito la profondità della norma ecco come avviene questa cosa qui come si passa a questa nuova alleanza questo fare le cose perché 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 sono belle perché sono dentro di noi il vangelo sembrerebbe di altro argomento eppure tocca a un livello molto profondo questa tematica siamo nel racconto del momento in cui perfino dei pellegrini greci ellenistici chiedono di sapere qualcosa conoscere questo gesù di cui tutti parlano ovvero sia gesù è diventato di fama internazionale ormai tutti chiedono di lui è a gerusalemme c'è la festa il culto e tutti quanti vogliono capire qualcosa di questo predicatore che sembra essere il messia ad alcuni ecco lo vogliono vedere è interessante voler vedere gesù e la risposta di gesù sarà stranissima è venuta allora che il figlio dell'uomo sia glorificato cioè che appaia chi è lui veramente che appaia la sua gloria il suo spessore in verità vi dico se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo perché questo argomento tutto a un tratto parla della morte parla di perdere se stessi così come nella realtà botanica avviene il chicco sinché non viene macerato dalla terra da microorganismi che lo fanno marcire e viene distrutto lui non può diventare la pianta che lui è in luce non può diventare la sua verità gesù dovrà morire per mostrare la sua gloria dovrà essere annientato per mostrare il suo essertutto ecco ma questo non riguarda solo lui chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna per arrivare alla nuova sapienza per arrivare ad avere l'amore nel cuore per cui le cose non le fai più per dovere le fai perché hai un'altra vita nuova deve morire la vita vecchia inutile pensare di far convivere la nuova alleanza la bellezza del rapporto nuovo con dio senza mettere a repentaglio il nostro assetto originario non c'è niente da fare dov'è che si conosce la potenza di dio quando si rinuncia alla propria quando è che si fa esperienza della gloria di dio quando si smette di essere appoggiati nelle proprie capacità quando si muore quando si perde la vita che non vuol dire semplicemente tirare le cuoia o morire biologicamente vuol dire molto di più servire e seguire il signore gesù e essere là dove lui essere onorati dal padre perché si è onorato il padre cioè si è dato al padre il giusto valore è interessante la parola onorare in ebraico vuol dire attribuire il valore a qualcuno attribuire il giusto peso a qualcuno quando è che fino in fondo noi diamo a dio la possibilità di darci la sua vita quando gli consegniamo la nostra quando finalmente ci lasciamo spaccare dai fatti marcire dai fatti ci lasciamo portare a quel nulla a quel punto di niente che dobbiamo passare per essere completamente suoi il signore gesù lo fa per noi perché noi sempre faremo questo imperfettamente incompiutamente ci mancherà sempre un pezzo sta arrivando la pasqua si sta avvicinando il tempo della resurrezione quindi questo è il tempo per aprirsi a quel passaggio quel passaggio che non può che conoscere un punto di morte c'è una realtà di annullamento di azzeramento che dobbiamo lasciar compiere mettere in atto al nostro signore sappiamo che il signore gesù per entrare nella gloria della resurrezione deve passare per il nulla della tomba per quello shabbat assurdo quel momento in cui lui che ha l'onnipotenza di dio in sé è completamente inutile passare per un momento il momento della croce il momento in cui viene ucciso è un momento importante il momento in cui quelle mani che sanno guarire vengono inchiodate quei piedi che sanno camminare per vie nuove sono crocifissi e quel cuore che sa amare tanto viene squarciato è il momento in cui tutto viene consegnato ma come farà un uomo ad amare una donna veramente finché non gli consegna a tutto di se stesso ma come farà una donna ad essere la sposa autentica del suo uomo finché non si dà senza tener più niente per se stessa ma come faremo ad avere dio come il nostro vero dio finché noi gli consegniamo la nostra vita qual è la nostra idea vedere la gloria di dio come uno spettacolo come questi greci che si avvicinano per avere questa acquisizione spettacolare ma no non si incontra a dio se non ci sia zera davanti a dio ma non è un atto di volontà un atto muscolare è un atto di abbandono qui propriamente quello che serve è di lasciarsi prendere lasciarsi salvare lasciarsi trasfigurare e lasciare a dio tutto e non resistergli più e aprirgli la porta e dargli la password e seguirlo fino a che lui sia veramente il nostro signore questa è la via della pasqua e la via della vita nuova